Sono senza parole. Miseria, ladra, ladra! E' questo il tuo essere senza parole? Quanto avranno impiegato a costruire questo posto? Anni, decenni forse. Al casar non sarebbe d'accordo. Proprio non ce la fai a goderti l'avventura, eh? Io me la godo, ma siamo qui per un motivo, ricordi? Ho ben presente il motivo, fidati. L'importante è questo. Va bene. Questa lettera è ancora leggibile. Guarda, Sam. Questa è l'officina di un fabbro. Qui forgiavano sciapole. E' in guardia, fellone! Bravo. Facevo il... Sì, sì, ho capito. Che faceva la... Sì? Già. Che pirata di merda. Credi commerciassero con altre colonie? Se commerciavano non lo facevano su quest'isola. Non avrebbero tenuta segreta la città. Giusto. Finalmente abbiamo trovato l'abbeveratoio. Sì. Non male qui. Ehi. Salute. Sì, salute. Ah, scheletri di cavalli. Sono ancora legati. È come se li avessero abbandonati. Ma perché? Non saprei. Forse sono scappati in tutta fretta. O qualcuno li ha portati via. Qui c'è qualcosa che non va. Che vuoi dire? Tutte le cose belle prima o poi finiscono. Io scherzo sulla maledizione del tesoro pirata. Ma dopo aver sentito le tue storie, insomma... Di solito la spiegazione più semplice è anche quella giusta. Di solito. Guarda qui, Sam. Sembra un codice di condotta per pirati. Devo che questo posto si basasse sull'assenza di leggi. Capitano Henry, chiedevo quando ti avremmo incontrato. Cos'è quel simbolo? Eh, mi ho visti diversi quando ti stavo ancora cercando. Mi sta lasciando questi marchi. Non sarà un altro sigillo? No, non che io sappia. Invasori forse? Di sicuro questa gente aveva molti nemici. Pff, può darsi. Ehi Nathan, guarda qui. Mi scatterei volentieri una foto in quest'affare, se avessi una macchina fotografica. Posso farti un ritratto sul mio diario. Davvero? Già. Sì. 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 Fidati e fai come me, ok? Oh, qui siamo senza dubbio nel quartiere di lusso. Un residenziale, però, che dici? Potrebbe essere un edificio amministrativo. Probabile. Forse Libertalia aveva un governo locale. E magari pagavano le tasse. Chi lo sa. L'ortuni dei cadaveri hanno abiti particolari, sembrano soldati. Quindi si affrontavano coloni e soldati. E se l'Asso ci fosse stato davvero un tesoro? Direi che qualcuno puntava a un ricco prelievo. Già. Speriamo che non ce l'abbiamo fatta. Esatto.